L'Immortale è un film del 2019 diretto da Marco D'Amore, qui al suo esordio alla regia. Un esordio alla regia con un film che è collocato nell'universo cinematografico della serie Gomorra, serie che ho tanto apprezzato a livello seriale, appunto, e che qui, con questo film che ha una collocazione temporale multipla nell'universo cinematografico, nella storia di Gomorra, arriva, appunto, al cinema, non soltanto nei televisori domestici. Questo film è principalmente collocato tra la terza e la quarta stagione di Gomorra, o, più probabilmente, in realtà, fra la terza stagione e la quinta stagione. Io adesso, in questo momento in cui mi sto registrando, che è il 28 luglio 2021, non ho ancora avuto modo di vedere la quinta stagione di Gomorra, quella che sarà l'ultima stagione, e sono molto curioso di vedere come avverrà la conclusione della storia di Gianni Savastano, Salvatore Esposito, e, evidentemente, dopo la fine di questo film, anche la storia di Ciro, Ciro, ovvero sia Marco d'Amore. In questo film, che inizia subito dopo il termine della terza stagione, con quello sparo fatto da Gianni contro l'amico, il fratello Ciro, destinato ai fluttui dei mari, abbiamo di nuovo l'immortale che sopravvive. Abbiamo questo Ciro di Marzio, l'immortale, appunto, che di nuovo se la scampa dalla morte. Il proiettile, infatti, non ha colpito il cuore e è riuscito a sopravvivere. È stato ripescato da un don locale, don Aiello, se non sbaglio, e, per volontà di questo, è stato commissionato, di fatto, il nuovo futuro di Ciro, ovvero sia finire in Lettonia, lontano da quella realtà, in modo tale che nessuno sappia che è sopravvissuto, e cominciare ad essere l'intermediario, se vogliamo, per Don Aiello, e quindi dare la possibilità a questo don di sviluppare i suoi traffici di superfacenti in Lettonia, appunto. È questa l'occasione per Ciro, una volta sbarcato, appunto, di rincontrare una figura del suo passato, una figura del suo passato, un certo Bruno, che noi avremo modo, attraverso i tanti flashback che ci sono in questo film e che caratterizzano questo film, al contrario della serie, che tendenzialmente mancava di questo strumento narrativo, un Bruno interventato da Salvatore Donofrio, che avremo modo di scoprire essere legato, appunto, al passato di Ciro. Nel corso della storia vedremo Ciro, però, essere di fatto in mezzo a una guerra tra bande, la guerra tra bande tra i russi veri e propri, diciamo, presenti in Lettonia, e poi, in realtà, una gang rivale. Ovviamente ci saranno sotterfugi, ovviamente ci saranno sparatori, ovviamente ci saranno regolamenti di conti. A poco a poco crescerà anche quello che è l'impero, di fatto, di Ciro, che inizialmente, magari, controvoglia, e malgrado, teoricamente, debba essere soltanto un ingranaggio del sistema, alla fine sarà ovviamente l'elemento di spicco in tutta quanta la situazione. Sarà quello a cui faranno riferimento anche tutti gli altri intermediari e tutti quanti gli altri sottoposti che vedranno in lui un leader. Un leader che, alla fine, ovviamente, dovrà prendere decisioni assolutamente difficili e complicate per risolvere la situazione che, ovviamente, deraglierà più non posso. Mi è piaciuto questo film, assolutamente sì. Sono molto contento di aver visto questo film per vari motivi. Prima fra tutti, credo che sia stato un buon esordio alla regia cinematografica per Marco D'Amore, che, leggendo la cara Wikipedia, ho scoperto che in realtà avesse apparentemente pianificato, già prima del finale della terza stagione, di in qualche modo sviluppare un pochettino la storia di Ciro di Marzzi, in particolare il suo passato, magari. Questo film, secondo me, è un tassello mancante nella storia di Gomorra, principalmente per quanto riguarda il passato di Ciro, con un ragazzino, appunto. È un tassello mancante che, secondo me, in realtà, non mancava a chi ha sempre seguito la serie tv, ma che, visto in ottica prevalentemente cinematografica, e soprattutto per coloro che non hanno visto la serie tv, credo che possa essere stata una visione interessante. E, grazie allo sviluppo, appunto, del suo passato di Ciro, con questi flashback, c'è stato un risultato abbastanza totondo, che, volendo, anche se sarebbe assolutamente un peccato, secondo me, permetterebbe a questo film, magari con le dovute mancanze, ma vabbè, permetterebbe a questo film di essere visto tranquillamente senza aver visto la serie. Sarebbe un peccato, però. Sarebbe un gigantesco peccato. La sensazione, dopo aver visto questo film, è di aver visto un qualcosa che, un pochettino come il film Il Camino, il film di Breaking Bad, ho avuto la sensazione di aver visto un qualcosa che, appunto, poteva essere visto senza aver visto la serie, ma che, assolutamente, secondo me, se è piaciuto quanto visto, porta inevitabilmente ad andare a cercare di recuperare la serie, perché si avrà così la possibilità di espandere ancora di più, se non forse dal punto di vista visivo-tecnico, diciamo quanto visto, dal punto di vista narrativo. La narrativa della serie, comunque, risulta, secondo me, superiore. Basti pensare, ad esempio, al fatto che, comunque, determinati sviluppi nella storia, che nella serie avvengono nel corso di una stagione, da diverse ore, quindi, di materiale, in questo film, per forza di cose, essendoci a durata limitata di circa un paio d'ore, deve essere il tutto molto condensato, quindi, magari, i tipici volta faccia, le scalate al potere, i doppi giochi, i tripli giochi, sono tutti un po' tanto condensati, da un certo punto di vista. Anche l'irruzione della violenza, in realtà, in questo film, con il ritrovarsi, diciamo, improvvisamente, fra i due fuochi all'inizio del film, in realtà, è velocissima da arrivare e è quasi talmente veloce che, secondo me, un pochettino disperde la potenza drammatica, diciamo, se vogliamo, della cosa. Ma, in generale, comunque, questo film è piaciuto, assolutamente sì. Mi è piaciuto molto, c'è una scena finale, una sequenza finale, anzi, al termine di questo film, che, per certi versi, vale assolutamente tutta la visione di questo film, non perché il resto non sia meritevole, ma perché veramente è assolutamente affascinante e farà presagire un futuro e, nel caso in cui, invece, si decidesse di concludere la propria esperienza con Gomorra, con questo film, in qualche modo, chiude il tutto, chiude il cerchio, iniziato all'inizio di questo film, questa scena mi ha veramente colpito. Mi ha veramente colpito, potevo immaginarmela, ma il fatto che io possa immaginarmi una cosa non significa che, nel momento in cui questa mi si presenta davanti, poi rimango impassibile, anche se magari l'avevo prevista. Ottima scelta, ottima scelta, sono assolutamente contento di aver avuto la possibilità di vedere, anche in veste cinematografiche, il mondo di Gomorra, riflettevo, anche con un amico di recente, sulla possibilità, magari un domani, chissà, di Gomorra di continuare, se non in veste seriali, in veste cinematografica, e dopo aver visto questo film, malgrado, continuo a ritenere che determinati sviluppi, narrativi tipici della serie, necessitino di un tempo un pochettino più lungo, secondo me, le due ore sono state quasi un pochettino pochine, sinceramente, anche per questa storia, magari, se ci fossero arrivate due ore e mezza, sarebbe stato meglio, ma, in generale, comunque, il risultato mi ha assolutamente convinto, ma, fondamentalmente, Gomorra, mi convince un pochettino sempre, sia con i suoi bassi, che, soprattutto, con i suoi grandi alti, secondo me. Ottima prova per Marco D'Amore, sono contento, di averlo visto esordire in maniera così efficace, secondo me, e sarò curioso, un domani, di vedere le nuove produzioni, che, mi auguro, presto, tirerà fuori. E, ancora di più, niente da dire, sono assolutamente curioso, dopo aver visto questo, tassello, prequel, midquel, parallel, sequel, se vogliamo, della serie, sono assolutamente curioso, di vedere come andrà a finire, questa benedetta epopea di Gomorra. È stato assolutamente un piacere, vedere Gomorra, in chiave seriale, e vederla, questa volta, in chiave cinematografica. Non vedo l'ora, di vederne la conclusione. Confido, che sarà davvero, qualcosa di straordinario, come è stata, secondo me, questa serie, o anzi, questa epopea.